La chiama lotta contro l'indifferenza è dello strumento attraverso il quale il questore di Salerno Giancarlo Conticchio punta a dare una frenata incisiva al fenomeno del sex torsion ma anche a tutti quei reati che oggi trovano terreno fertile soprattutto tra giovani e adolescenti sulla rete e attraverso i social. Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi in danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla polizia postale che riguardano minori tra i 15 e i 17 anni e a volte anche più piccoli. Si tratta di un fenomeno di solito rivolto al mondo adulto con un'enorme potenzialità di pericolosità perché colpisce vittime minorenni, fragili e inesperte. Un fenomeno sottostimato perché la denuncia impone ai ragazzi un disvelamento ai genitori che a volte appare più doloroso delle minacce subite. Ma la denuncia e la collaborazione con le forze dell'ordine restano l'unica arma vincente. E lo sa bene il questore di Salerno che proprio grazie al lavoro dei suoi uomini e delle sue donne è riuscito a prevenire che minacce ed episodi gravi arrivassero ad epiloghi tragici. E così oggi, mentre sul piano operativo sono giorni anche di lotta contro il fenomeno del parcheggio abusivo in città di Salerno, dallo Stadio Arecchia, da altre zone dove sono in corso e in programma altri interventi, il questore ha voluto cogliere l'occasione dei tragici fatti di Gragnano dove secondo le indagini in corso un tredicenne ha scelto di suicidarsi perché minacciato da suoi coetani per rilanciare l'importanza della denuncia. La vittima di minacce ma anche i genitori e chiunque si trovi davanti ad un campanello d'allarme deve chiedere aiuto. Episodi del genere sono episodi che scuotono la coscienza di tutti, quindi poi dopo siamo bravi a dire ma io sapevo, io ero a conoscenza di questo fatto. Noi dobbiamo mettere in campo la capacità di ascolto, la capacità di ascolto è proprio delle istituzioni e anche della famiglia. La famiglia si accorge quando il figlio cambia il proprio stato morale e quindi questo cambiamento dello stato morale deve farci porre la domanda che cosa è accaduto. Noi abbiamo una sezione specializzata qui in Questura che si occupa dei minori e poi devo dire che anche a Salerno la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni è attenta a queste tematiche e c'è uno stretto coordinamento tra attività preventiva e attività repressiva da parte della Procura della Repubblica. Il suo primo consiglio quindi è di fare attenzione ai campanelli d'allarme? Sì, ci sono dei cambiamenti che avvengono nell'essere umano, quindi dovuto a una serie di circostanze, però interroghiamoci perché il figliolo sta cambiando atteggiamento. Cosa fare quindi? Dove denunciare? Come muoversi? Innanzitutto avere il coraggio di denunciare, cioè essere capaci di assumersi la responsabilità, di vivere la propria vita, di denunciare quello che è accaduto. L'amico, l'amica, il familiare deve denunciare quello che è accaduto perché denunciando si riesce a intervenire in tempo reale. A volte anche gli amici possono collaborare, parlo anche dei ragazzi. Sì, i ragazzi sanno, sanno parecchio e quindi quando il ragazzo si sfoga con l'amico, con l'amichetto, deve denunciare. Denunciare parlando innanzitutto con un genitore e poi con le forze dell'ordine. Molto spesso la cronaca, forse anche per colpa di noi giornalisti, riporta solo gli episodi che non hanno un lieto fine. Puoi invece dirci quanto valore hanno avuto le denunce nel salvare magari delle persone come lei che hanno avuto l'intelligenza e il coraggio di denunciare un episodio all'inizio? Da quando sono qui a Salerno abbiamo registrato diversi momenti di tensione, di gravità, che sono stati risolti senza dare notizia alla stampa, senza dare enfasi alla stampa. È vero che la stampa si occupa dei fatti di cronaca, diventano importanti quando diventano cronaca nera. Ma noi lavoriamo anche sulla cronaca agli tofine.